Dal 16 al 18 giugno si terrà la quinta edizione di Piano City Pordenone, festival pianistico organizzato con la collaborazione del Comune, il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli e di numerosi altri partners. Saranno 70 i concerti che avranno luogo in teatri, strade, piazze, corti e giardini di palazzi privati di Pordenone. Una festa di note a cui parteciperanno oltre 100 pianisti provenienti da tutto il mondo, solisti di fama internazionale, artisti emergenti, giovani e giovanissimi talenti, oltre agli allievi delle scuole di musica e dei conservatori. Il ricco programma intreccia i ritmi ispanici e caraibici della musica sudamericana con la cultura musicale mittele europea, a dimostrare che le radici della musica sono strumento di espressione, libertà e integrazione. Inoltre uno spazio è dedicato anche al jazz, al ragtime e alle contaminazioni elettroniche. Quest'edizione sarà improntata ad una vivacità dovuta dall'intreccio di eventi e concerti che seguono il filo conduttore di ritmi caraibici, come il concerto iniziale di Mariali Paceco, una pianista jazz cubana veramente strepitosa. Per concludere il concerto conclusivo affidato a tre giovani artisti spagnoli, Andrés Barrios e due ballerini flamenco, che affiancheranno al suono del pianoforte anche il ritmo percussivo del tipico uso dei tacchi del ballo flamenco. All'interno di un contesto già ricchissimo di eventi e manifestazioni, che tra l'altro denota la ricchezza culturale di questa città, c'è anche Piano City, un'iniziativa straordinaria, bellissima, di caratura internazionale, che inonda di notte la città, sia attraverso concerti ed eventi al chiuso, sia anche metto a disposizione dei pianoforti per i virtuosi o anche per gli artisti in erba che vogliano esibirsi. Si tratta, ripeto, di una rappresentazione magnifica della vitalità culturale di Pordenone. Oltre alla qualità, Piano City sta anche nei numeri, perché abbiamo 100 pianisti in tre giorni, 70 concerti e 18 spazi della città coinvolti. Questo ci dà la misura di quello che è un grande evento, un grande festival musicale. L'anima culturale di Pordenone si esprime anche e soprattutto attraverso la musica. Piano City fa da raccordo tra la primavera e l'estate, chiude la primavera e comincia l'estate a Pordenone. In tutto circa 500 eventi, non un eventificio, ma un modo per valorizzare la città, dargli anche una dimensione turistica. se pensiamo che nel 2022 abbiamo registrato 100.000 presenze grazie proprio a questo insieme di eventi che sono tanti e di qualità. Speriamo di ripetere quei numeri. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito. Per info sul programma www.pianocitypordenone.it